Uno sportello per proteggere i cittadini e il territorio dai pericoli dell'amianto parte dal comune di Atena Lucana guidata dal sindaco Luigi Vertucci per iniziativa del consigliere Carmine Cancro l'azione di contrasto alla presenza di amianto sul territorio per aiutare i cittadini ad individuare eventuali presenze nascoste del materiale e ricevere indicazioni utili allo smaltimento dei residui. L'amministrazione comunale di Atena Lucana con delibera di giunta dà il via ad un'azione concreta per l'eliminazione del materiale nocivo dal territorio a tutela della salute pubblica e su indicazione del consigliere Cancro lo fa attraverso la stipula di un protocollo di intesa con lo sportello nazionale amianto che sarà al servizio dei cittadini atenesi per offrire loro informazioni e assistenza online, telefonicamente e laddove necessario anche con interventi sul posto. L'asbesto, meglio noto come amianto, è una fibra costituita da un insieme di minerali risultati cancerogeni. La nocività dell'asbesto o amianto è stata accertata e certificata a partire dai primi anni 90 con l'Italia che con legge numero 257 vietò produzione, vendita e utilizzo del materiale nocivo definendo anche le procedure per la sua dismissione. Prima che ne venisse attestata la nocività però, l'amianto veniva ampiamente utilizzato nei più disparati settori, fin anche nella lavorazione di abiti e tessuti di arredamento ignifughi, vista la particolare resistenza al calore, favorendone la diffusione. Nella consapevolezza quindi di non avere un'idea precisa della quantità di amianto presente sul territorio e nella certezza che, vista la vastità degli usi in cui veniva impiegato il materiale, gli stessi cittadini non sono pienamente a conoscenza se nel loro vivere quotidiano vi sia la presenza di amianto, l'amministrazione Vertucci, accettando la proposta del consigliere Carmine Cancro, ha sottoscritto il protocollo che consentirà agli abitanti del comune di Atena Lucana di poter contattare lo sportello nazionale amianto per ricevere informazioni e suggerimenti inerenti a qualsiasi tipo di problema purché collegato al tema dell'amianto, come ad esempio problemi di salute, di carattere gius lavorativo, legato alla bonifica di un'area e non solo, e per qualsiasi suggerimento e informazione, ricevendo dall'operatore le risposte attese e utili.